Un Milan in piena emergenza riesce a fare una grande partita di carattere battendo meritatamente il Frosinone al San Siro. Le assenze pesanti di Ciao in difesa e Leao e Giroud in attacco potevano pesare molto sulla squadra rossoniera, infatti Pioli ha schierato in emergenza. Teo Hernandez difensore centrale con Florenzi a sinistra e davanti il tridente già visto contro il Borussia Dortmund in Champions League, cioè Cukueze, Pulisic e Jovic. Protagonista il serbo con il gol dell'1-0 e l'assist per il 3-0 di Tomori, grandissimo gol di Pulisic per il 2-0 su un assist di Magnan, il portiere francese è l'estremo difensore che ha totalizzato più assist nel campionato di Serie A, poi è arrivato il gol della bandiera della squadra di Di Francesco con Brescianini. Milan che ha vinto, come dicevamo, meritatamente questa partita. Ora si penserà alla partita di sabato a Bergamo contro l'Atalanta, positiva notizia molto importante, il rientro di Benasser che a 10 minuti alla fine è entrato in campo dopo 206 giorni dall'infortunio subito nel derby di Champions League nello scorso maggio è totalmente recuperato e quindi una pedina in più. Ora si spera per la partita di Bergamo di recuperare qualcun altro, sicuramente ci sarà Giroud che rientra dalla squalifica e molto probabilmente speriamo anche Raffaele Au. Quindi prossima partita sabato alle 18 all'Atleta Azzurri di Bergamo contro l'Atalanta.